Noi abbiamo dovuto fra le varie eredità ricevute maneggiare la questione di Corso Vittorio Emanuele e abbiamo ritenuto di agire in questa direzione, di riaprire alla viabilità questa arteria cittadina così significativa con un discorso più ampio di viabilità attorno al plesso ferroviario. Il senso del nostro intervento è il seguente. Noi in primo luogo abbiamo la necessità di completare ciò che non c'è, ovvero la segnaletica stradale e la messa in sicurezza di Corso Vittorio che sarà una strada in cui si potrà andare a 30 km orari per esigenze di sicurezza e anche per andare in qualche modo in linea con le direttive europee. Poi la Corso Vittorio sarà aperta al traffico pubblico in entrambi i sensi di marcia mentre quello privato sarà in direzione sud-nord. Oltre a questo però c'è anche naturalmente la necessità, come accennavo prima, di ridisegnare una più ampia e complessiva viabilità attorno al plesso ferroviario con l'effetto sostanzialmente di eliminare la rotatoria di via Teramo che rappresenta da troppi mesi un tappo al traffico di consentire di ampliare la controstrada che transita dinanzi alla stazione. All'esito di tutto questo interverrà anche la chiusura della cosiddetta controstrada quella per intenderci oggetto della pronuncia del TAR che attualmente parte da Piazza della Repubblica. Andrete comunque in un certo senso a stravolgere quello che era il progetto della passata amministrazione? Anche su questo bisogna fare chiarezza perché se uno avesse la bontà di leggere le carte, esercizio in cui mi diletto, scoprirebbe che la delibera che ha determinato tutto questo parlava genericamente di riqualificazione. Quindi questa idea della pedonalizzazione o della semipedonalizzazione in realtà non esiste perché è smentita dalle carte.